Purtroppo anche il Brian Solo talvolta è costretto a mettere piede negli uffici pubblici Asti Ci va scontento ma non lo può evitare Ci va già sapendo che dovrà lottare Ci va già nervoso ancora prima di entrare Si innervosisce vedendo le code Si innervosisce vedendo le facce Si innervosisce sentendo tutto quel caldo qui Gli scaldamenti vanno a mille tanto paghiamo noi E ovviamente si innervosisce vedendo il ritmo e la velocità dei dipendenti pubblici Che lui non è così lento ma neanche quando si risveglia in ospedale dopo l'anestesia Osti Ma neanche con corata di febbre Ma neanche sul punto di morte A un sussulto almeno Gli verrebbe voglia di andare allo sportello e dirgli Osti allora Moves Dati una svegliata Su Mi metto qua io Tra un po' si siede e si mette lì lui Ciao via dai Dai faccio io Dai fuori dalle balle Te li faccio tutti quei 40 in coda Pam 20 minuti Li faccio tutti io E ti faccio vedere Osti Se io lavoravo ai ritmi di quella gente qua Ero già fallito Osti E quindi E quindi Quando è tutto finito Tira un sospiro di sollievo E corre di corsa A casa sua Pensando Se io lavoravo ai ritmi di quella gente qua Ero già fallito Osti Tira un sospiro di Tira un sospiro di Tira un sospiro di